Rieccoci dopo un periodo di pausa per un nuovo video sulla partita odierna ovvero Parma-Palermo Partita che al mio modo di vedere è impossibile Primo per l'atteggiamento che ha avuto la squadra nelle ultime settimane E poi perché il Parma se vogliamo essere realisti è molto più attrezzato rispetto a noi per la corsa alla Serie A E quindi diciamo che sulla carta è impossibile Però come si suol dire la palla è rotonda Io sono speranzoso più che fiducioso Che possano fare una bella partita E che magari sempre per essere realisti prendere un punto Perché spereranno la vittoria Ragazzi guardiamo la realtà dei fatti È praticamente impossibile Primo per la squadra che abbiamo di fronte E secondo per l'atteggiamento che abbiamo nelle ultime uscite Poi parliamoci francamente A volte anche Corini Sembra che sia contenti della partita e del risultato che viene Anche questo un pochino dà fastidio Comunque bando alle ciance Veniamo alle formazioni E allora Il Parma giocherà con Cicizola Balog Estevez Bernabè Bonni Del Prato Che è il capitano Partipilo Coulibaly Ernani Di Chiara Eman A disposizione A disposizione Turk Corvi Osorio Benedicciac Parte della panchina Che era dato per titolare Carpentier Ansaldi Colac Som Camara Mihaela E Circati Circati e Ciprien Mentre il Palermo Giocherà con Pigliacelli Tre Pali Lund Lucioni La do come Me la dà qua il sito Ovvero Pigliacelli Lund Gomez Lucioni Segre Brunori Mancuso Barconi Di Francesco Matteo Coulibaly Praticamente Da In ordine Crescente Di numero Qua mi dà A disposizione C'è De Planch Graves Stulac Mancuso Ritorno Insigne Nedelciaru Vasic Buttaro Soleri Valente Aurelio E Anderson Allenatore Come sappiamo Corini Quindi Diciamo Che Speriamo Una bella Partita Speriamo Che magari Riescano A A Prendere Un punto Possibilmente Svoltando Come atteggiamento In campo Quindi Speriamo Almeno Almeno In un pareggio Visto Che Per come Sta andando La stagione Non possiamo Pretendere Che Vincano Ogni Partita Certo Da tifosi Speriamo Sempre Nella Vittoria Però Dobbiamo Vedere Anche L'atteggiamento Dei giocatori In campo Con questo Vi saluto Vi raccomando I like I commenti Le iscrizioni E sempre Forza Palermo Vi saluto